Per la tredicesima giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la cooperativa Solidarietà, che opera su Bitonto e le sue frazioni non solo, ha promosso l'iniziativa Aprile in Blu. Le educatrici dell'assistenza specialistica Bitonto Pallo del Colle, in rete con il comune per l'appunto di Bitonto, l'assessore al welfare Gaetano De Palma, alle pari opportunità Mariana Legista, alla pubblica istruzione Marina Salierno, con l'associazione Anatroccolo Onlus, l'Unitalsi, la rete organizzazioni di stabilità e il maestro Carmelo Bacco, lanciano un messaggio di speranza, stringiti forte a me, camminiamo insieme. La foto dei loro sorrisi e del loro messaggio è stata diffusa sul web mediante la pagina Facebook Aprile in Blu, ma il loro forte abbraccio arriva mediante anche altre iniziative che sono state promosse in occasione della tredicesima giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Infatti, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Bitonto, del territorio su cui opera la cooperativa Solidarietà, hanno aderito al contest che ha puntato a ricreare l'idea dell'approccio attraverso un disegno o qualsiasi altra forma creativa. È un bellissimo gesto di accoglienza e di vicinanza che si udisce anche alla challenge lanciata dalla cooperativa. Scattarsi una foto a mezzo busto mentre si abbraccia la metà di un cuore blu disegnato. Per ricevere informazioni a riguardo basta collegarsi sulla pagina Facebook Aprile in Blu. La presidente della cooperativa Solidarietà, Antonella Robortaccio, ci ha raccontato come sin dalla chiusura dei loro servizi hanno incominciato ad operare un sostegno alle famiglie e ai minori, non solo autistici, mediante l'ascolto e l'invio di materiali come video di supporto o giochi in continuità con il lavoro iniziato in sede e in rete con le insegnanti di sostegno delle scuole. Ha dichiarato inoltre che al termine di questo periodo d'emergenza per la pandemia del coronavirus, come cooperativa sono pronti ad attivare il modulo centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo, già accreditato dalla regione Puglia, coinvolgendo la neuropsichiatria infantile, a sostegno delle famiglie e dei minori. Belli sono stati riscontri avuti dalle educatrici in prima linea, soprattutto in questo periodo con i bambini autistici. Tra i vari messaggi che riceviamo ogni giorno, uno in particolar modo ha destato la nostra sensibilità. Una madre impegnata in prima linea nella lotta al covid-19 in ospedale ha espresso un pensiero nei confronti di una nostra collega che supporta il figlio a distanza in questo periodo di pandemia. La madre del minore scrive E grande è il cuore blu della nostra amica Simona, che spezza il silenzio con la sua voce ad amantina, accogliendo e ricambiando gli abbracci ricevuti come quelli di cui abbiamo parlato con Aprile in blu.